Ho preparato né come formigli né come sileri, però ripeto, siccome nei formigli né sileri sono qui, capisce. Allora, l'unico che può rispondere, poi sentiremo, è Bassetti. Lei mi ha risposto, quindi, non farà il vaccino in questo caso, perché lei mi dice che non è un vaccino, è un farmaco modificato. È un farmaco geneticamente modificato. Quindi lei non lo farà. Io non lo farò. Perfetto. Bassetti e poi i colleghi. Guardi, Giletti, io trovo le affermazioni di questo signore che, se dice queste cose, mi spiace, io non lo considero neanche un collega, gravissime, dette in prima serata in un programma come il suo. Perché noi non possiamo andare a dire alla gente che stiamo facendo un vaccino geneticamente modificato? Perché corrisponde esattamente al contrario, non c'è nessuna modificazione di nessun genoma all'interno del nostro corpo. Mi faccia parlare, perché se no, voglio dire, allora, io non ho un atteggiamento superficiale nei confronti di questo signore, perché questo signore non sa neanche chi sia. Non ho mai letto un suo lavoro scientifico e quindi, voglio dire, ho però letto la letteratura scientifica. Me lo faccia vedere. Lei vada a guardare il mio curriculum per farmi dimostri che lei ha il 10% del mio curriculum. Io ho 40 anni di vita. Guardi, io ho un curriculum, guardi, mi ho esercitato in tutti gli ambiti, il medico, il medico e 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 il medico. Un attimo solo, perché se no non ha senso. Questo signore qua forse più... Prego Bassetti. Il problema di questo signore è che dice delle cose inesatte. Sono constatabile le cose che dico io. Evidentemente se avrà delle pubblicazioni sui vaccini le avrei dovute leggere. Comunque, visto che lui dice che noi cattedratici non vediamo i malati, io ne ho visti 2.500 nel mio ospedale e posso dirle che sono ben contento che sia arrivato un vaccino che non ha nulla che vada a modificare il nostro genoma. Viene iniettato un RNA messaggero che serve a portare un messaggio che serve a produrre da parte dei nostri ribosomi, da parte del nostro sistema immunitario, degli anticorpi che sono indirizzati nei confronti del virus. Questo lo dicono decine, centinaia di pubblicazioni scientifiche che invito questo signore a leggere perché probabilmente ha letto poco e è stato più in piazza che a leggere. La fermo un secondo, Telese Cerno.